Bella, bella, bella a tutti ragazzi, io sono Daniel e oggi faremo la Philip Battle Challenge con Christian Bella, che non si vuole inquadrare, bella ragazzi, e con un altro mio amico Giacomo, bella a tutti ragazzi Avremo dieci tentativi l'uno, chi ne farà di più, vince, inizio io, le mie dieci tentativi, vediamo il primo, eccolo, dai, è il primo Un secondo Mi invito a iscrivermi al mio collano che uscirà tra oggi e domani forse Andiamo del terzo, no, non va Sono il primo, sono il primo, per ora, ho sbagliato tutto Una ne fa ragazzi, non di più Tanto poi, Giacomo parla e ne sa chi ne lo fa, subito, sono due, sono cinque tiri, due Quattro Eh, però si è proprio già meno, è uguale, ne hai quanti tre comunque Ah sì, sono tardi, vieni No, cazzo, cazzo Quanti tiri sono? Sette 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 tiri, tre Tre flip No Otto Otto tiri, tre flip Nove tiri, tre flip L'ultimo ragazzi L'ultimo ragazzi, è che sia L'uomo tab Questa è per Uno che ci serve Un iscritto Questa è per E sono su quattro Su un secondo No su tre Non è flip Non è flip Non è flip Ragazzi scrivete sotto nei commenti Se è flip o no E non è flip Attenzione Quanti tiri è Cri? No no di più Questa è il quinto Una flip su cinque tiri E nel costino Sei tiri una flip Sette tiri una flip Non ce la fa Non ce la fa ancora Otto tiri una flip Non mi potrei separare Nove tiri una flip L'ultimo Ecco non gli esci Ora giocherà Giocherà il bomber Che ne fa Cristian ci prova Cristian già ci gasa Ecco il primo lo sbaglia Ecco quello Il gasatore Dammelo La faccio io Il primo lo sbaglia E Cristian ancora non ce la fa Può recuperare E ne sbaglia ancora Il nostro Cristian rotondo Ne sbaglia ancora un altro Eccolo C'è flip un tiro Ti immagini che la ricopera Sette flip Un flip e sette tiri Otto tiri E' uscito ragazzi Che custo E' uscito No ha un culo tremendo ragazzi Vi invito a iscrivervi pure a canale L'ultimo tiro E ormai io ho vinto ragazzi Io ho vinto Io ho vinto E' uscito E' uscito E' uscito